Cari spettatori. Benvenuti a un nuovo entusiasmante video sul nostro canale. Oggi ci immergeremo nel mondo del gossip. Con una questione che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. La presunta relazione tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Ma prima di addentrarci nei dettagli, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e discussioni intriganti come questa. La scintilla di questo gossip è stata innescata da una serie di commenti sui social media che hanno scatenato il caos tra i fan. Quando Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso una foto su Instagram, Antonino Spinalbese non ha potuto fare a meno di lasciare il suo commento. Così. Ecco cosa ha scritto. La mia ragazza. Una semplice frase che ha fatto tremare il mondo dei social. Tuttavia. Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Alcuni sono rimasti perplessi e hanno chiesto. In che senso. Altri, invece, sono volati direttamente alle conclusioni. Sostenendo che questo potrebbe essere il motivo per cui Sonia ha lasciato Paolo Bonolis. Ma, al momento, sia Sonia che Antonino mantengono il silenzio. Senza confermare o smentire nulla. Cosa ne pensate di questa situazione? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. E, per non perdere nemmeno un aggiornamento sulle ultime novità dal mondo del gossip, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche. Vi aspettano molti altri contenuti interessanti. Grazie per essere con noi e alla prossima.